Le insistenze del primo ministro di scenderci dalla chiesa cattolica. Di Giorgio Dimitrov? Si interessa di politica? No, io sono un dottore. La sua pressione è normale, monsignore. Di che si tratta? Chiudono l'istituzione principale dell'apostolato, signora. Le nostre scuole. Però non viatano la vostra fede, no, monsignore? La fede del nostro signore può essere vietata e desecrata in diversi modi. Non stai esagerando? Se parliamo di gente normale, sì. Ma quando si tratta di belve selvagge? Non capisco niente. Noi vogliamo di avere un bambino. Che Dio vi benedica. Grazie. Ma lo crede davvero? I comunisti sono molto forti. Alcuni di noi sono pronti al peggio. Vuole dire che al loro fanatismo opporrete il vostro? Un pastore deve serli dove su ogredge, Enrico. Deve sofrire come sofre su ogredge. Un pastore. Un pastore. Quindi credo, tue stati iniziative, non sono sussati. Uggi sono cristiani. Non ti? Non ti sei, ti è un progetto, dove sono rosenza. Ma chiamò una cittura ignacio lo io. Ma domani ho spiegliate, che era un progetto? Sei che, come mi diceva, che è un progetto? Cazare, è che il progetto. è un personaggio che è un personaggio di di Богa. Tu voglio questo lato, da andiamo in Ravena, con il mio cito, Andrzejo. Tu sei che ti amici, tattico. Perché non? No, no, non dovrebbero essere da te pusti dal bambino. Il primo è più facile. Non lo so. Stavano sempre più strumenti. Oggi vi, mon signor Giuliani, è veramente vero per comunistiche. Cercai, ti sei italiano. Se si è iniziato a parlare con il signor. Come? Come? La città è di un figlio di Dette. E tessi sono dei popscati da vera, Drogario Maior? Non, non sono. Non si stanno.